Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Sabrina Ferilli è una delle attrici italiane più conosciute al mondo Bellissima e talentuosa e apprezzata anche per la travolgente ironia, per il suo accento romano che ha conquistato milioni di persone Ma cosa conosciamo di lei? L'attrice romana è anche molto apprezzata in televisione in veste di conduttrice, insomma nella sua carriera vanta tantissime esperienze di successo Sabrina Ferilli, l'attrice italiana più famosa al mondo, età, studi, vita privata Classe 1964, Sabrina Ferilli ha 57 anni ed è nata e cresciuta a Roma, la città eterna Oggi è una delle donne italiane più famose al mondo, sia per la sua bellezza mediterranea sia per la sua bravura La Ferilli è diventata un'icona del piccolo e del grande schermo, ed è anche seguitissima sui social Per quanto riguarda la sua famiglia, suo padre è stato un politico dirigente del Partito Comunista Italiano, la madre, Casalinga L'attrice ha una sorella di nome Cristina ed un fratello che si chiama Pierpaolo Ha conseguito il diploma al liceo classico e dopo la maturità ha compreso di volersi avvicinare al mondo della recitazione, iniziando a frequentare corsi di teatro Sabrina Ferilli, chi è il marito, dove vive l'attrice.Sabrina Ferilli è sposata con Flavio Cattaneo dal 2011, amministratore delegato di un colosso della Telecom I due sono convolati a nozze in segreto, solo nel 2014 hanno ufficializzato la loro unione Si sono conosciuti sul set di Dalia. Sono felici ed appagati, non hanno figli L'attrice è serena accanto a lui, ma nel suo passato ha vissuto dei momenti delicati, quando nel corso della sua passata relazione con l'avvocato Andrea Perone, ha fatto i conti con il tradimento di lui Oggi l'attrice vive serena accanto al suo compagno, ed è considerata un'icona di bellezza e di professionalità Sabrina non ha particolari segreti di bellezza, con lei la natura è stata particolarmente generosa e si vede Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video